stato rapido le cosine cos'era indugio indugio texano new york allora io vorrei vorrei iniziare questa live ringrazio il signor marceline che mi ha fatto questo pane e vin anche noi ci siamo scordati marcellino pane e vino cosa cazzo ha dichiarato fuori era anche un film se non mi ricordo male sì però il cartone animato era la cosa un po più particolare comunque marceline 91 cosa sai che mi ha fatto questo bellissimo disegno vedete questo qui sono io questa è una pokeball e con la maglia dell'uomo ragno tra l'altro che avevo ieri incredibile come ha fatto l'ha fatto l'ha fatto al momento mentre streamavamo esattamente me l'ha data prima dello streaming quindi insomma l'ha fatto al momento mentre siamo andati al bar a prendere al bar al bar e quindi grazie mille veri tankius grazie anche da parte nostra che ce l'ha fatto anche noi il quadretto che non immagino che ce l'ha già visto magari non ci sta guardando e quindi abbiamo fatto la brutta figura si che ha commentato e lì non ho visto non ho visto l'ho visto ah eccomi anche sub eccolo lì schio che dice aspettate che c'è giorgio che parla grazie mille schio buon compleanno a te e grazie anche giorgio che ha letto questa donazione giorgio diventerà parte è straordinario giorgio rainbow 6 sì sì facci facci poi è arrivato un altro bel regalo che da parte di vado a leggere mi sono ispirato come rivestito in un video dove sei a milano con karim marco egliezza non mi ricordo niente ma grazie alla cosa della sony e avevo quella maglietta lì ma vabbè comunque qui grazie mille ancora ma si è bellissimo devo trovare un posto dove appiccicarlo al muro adesso vedrò di inchiodarmi e prendere la scossa auguri di buon felice natale gatto goditi regala house mi dice anzi da parte del signor frank aux ale the killing joke mt3v anni gestellato e suor tucano non ho letto i nomi veri perché sono una persona modino grazie mille a signor fabian fu che non ho sbagliato perché ho letto il follow perché sono un coglione vedi vabbè grazie per il pollo l'ho detto niente per il pollo no aspetta questo periodo senza rompere tutto no evidentemente no vediamo un po di che cosa si tratta se mi ricordo per quella bianca che la pagina per mesi grazie mille vai giorgio grazie mille giorgio che bella voce si si mi ha regalato della carta si è sentito è l'amiibo di link di wind waker con la bacchetta del vento thanks me lo metto qui qui no lì lo metto ben gentile ben gentili tutti grazie mille grazie mille tra l'altro mi è arrivato ieri mattina prima che partissi quindi è andata proprio di culo mi aveva avvisato guarda che ti arriva tra il 15 e il 16 e domenica sono via grazie mille wolfy ricordo i sub che erano sub entro il 15 che ho mandato il video visto che aveva solamente 200 visualizzazioni quindi vorrei ricordarlo un pochino tutti quanti eh che è lì e a quelli che l'hanno visto gli è garbato bene magic sono contento per lei wine waker boh io nel frattempo indugerei questa è casa mia indugiamo dentro rendiamo se tolgo ma che nome è grazie mille per la sub non mi stava venendo niente a dire eh c'è stato un aggiornamento di rainbow six che però ha aggiunto solamente una mappa ha nerfato eh la barba nera e ha invece boostato eh come si chiama quell'altro quello non mi ricordo toucher astone a vedere tatanka 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 no tachanka tachanka guardi auguri moro la bambinetta che ieri zompettata nel bancarine natalizie che ci ha portati a bere il caffè vi ha passato la trocca a forma di torrone era beauty soul era agitata e si è dimenticata di presentarsi ma che problemi ci sono ho mangiato io la droga di torrone ah e io pensavo fosse un commento alla signorina e vado e ho detto ah ecco complimenti così così lo dice ma non era moro cosa sembrava un commento alla signorina come l'hai detto ma è il torrone è il torrone eh dopo dopo eh vabbè mi sto imborgesendo ho saltato una cosa che c'era un filmato nuovo il Rainbow Six all'inizio ho saltato eh in realtà è è la new season si ma non ci sono operatori nuovi quindi ancora no? che palle vabbè io nel frattempo immagerei un ricciarello no se pensi di giocare di particeone in più prendi la gold edition se pensi però di giocarci tanto beh ma la gold edition beh sì però non so se c'è tutti e due i pass no credo ci sia solo il primo eh no o magari il primo adesso te lo danno di base cioè è passato un anno ma può essere anche se i punkers eh mi sembra strano che ti devi comprare i season pass anche dopo che è finita la season beh non so che senso ha eh però ti sblocca un sacco di operatori eh appunto o calano di prezzo tutti gli altri operatori però non sarebbe vinculata per gli altri quanti te ne sblocca? 8? eh eh no si e te ne sblocca comunque tanti te ne sblocca... ah no si ho 8 rotto invitational eccoci qua ma c'è Karim 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 tu tanana ma adesso lo chiami il cellulare a quel cretino e gli dici vuoi allora devo? ha mentito ha detto che c'era ma non è mutato lo so ah si mi ricordo sei quello bianca che c'è la pace da birra che è? perfel grazie mille per i due mesi eh fede ortello dipende se hai degli amici con cui c'è ma adesso me lo dici Marcelino prendi tu prendi la gold se magari sei anche da solo non so quanto ti possa durare questo gioco però prende da me era bellissimo sia il mio ma anche quello di termosifone era veramente fico ma già già l'avevo apprezzato all'epoca il loro il mio invece è stata una novità scrivo la cosa un attimo su TS è abbastanza importante non posso leggere aspetto un secondo a scriverla vai vai ma se pare sto schermo devo comprarmi il cavo displayport io immaginavo lo sai credo che ci sia un pacchetto da pagare con soldi veri per sbloccare gli operatori del primo season pass si e c'è però bisogna io l'ho preso season pass 2 però ragazzi io vi ho invitati comunque qua non c'è nessuno e dove è andato Elieza tu aereo fammi vedere un attimo operatori qui eccomi arrivo eh arrivo eh ma l'altro non c'è niente di nuovo avete rubato uno schermo curvo Samsung no abbiamo chiesto ho detto eh volendo sai qual è il problema di ricevere uno di quegli schermi lì non è tanto farci il video perché farci il video eh zero problemi cioè lo faccio vedere dico va che bello va che bello il problema è quello che non ci faccio una recensione dico va che bello questo schermo compralo e magari loro non so se sono ficcate quella cosa lì non mi entra ragazzo non mi entra Luke dice probabilmente i nuovi operatori li presenteranno l'imitational di febbraio come è giusto che sia grazie mille il video era un po' confusionario lao dici quello per i sub è stato un po' un macello purtroppo da da girare perché dovevo vabbè lo dico che tanto ormai è già uscito era un dietro le quinte del troppo vecchio per questa merda sul NES Mini il problema è che avevo due telecamere ed un solo microfono con la quale registrare il mio audio e quindi niente è stato è stato un po' un macello bene allora facciamo così non mi partecipa neanche lì il corpo si sbriga per la madonna ho creato una partita di gatto quella ricordo proprio da zero eh sì espion ti ricordi sono quello biondo con la faccia della pirla grazie mille espion vito gatto un vito di yuk un vito a moro un vito a fresca insalata che è sparito da pericolo che non si sente il gong anche perché sopra il mio letto questa è casa mia entri regius 82 grazie mille per la sub buono buono lisa cosa facciamo aspettiamo il pirla no facciamone una almeno eh non lo so è sparito c'è uno c'è uno non è uno è un spertino sto gredino dove è andato ahia che male il ginocio l'ho preso botta era interessante vedere come registrare tutto eh lo so era incasinato perché appunto non è non è facile riuscire a registrare due cose contemporaneamente da solo e prendiamo il castello allora io scelgo la cianca proviamo subito vuoi provare eh si dai aspetta fammi vedere il mobile è questo sgasg ah ma siamo partiti abitati gli zar non mora ma quello lì la recluta che schifo stavo leggendo la chat no attenzione sta cambiando bravissimo come ha fatto è perché siamo con il ricaricamento non è partita eh ma non può forse non l'ha caricato noi non può essere Edoardo io sono quello moro con la faccia da pirlana va bene grazie mille vero vabbè io ho messo staccato perché l'ho tappato fino a un attimo fa no no stessi un deficiente vabbè beh volendo possiamo ancora uscire perché le zar stanno alla fonshiamo eh c'era un aggiornamento perché io l'ho aperto prima di scendere ma ancora deve farmi l'aggiornamento di Ubisoft dai aspetta sta scaricando la giornata vabbè no vabbè vabbè 1.8 giga quanti sono? 1.8 giga 1.8 giga io l'ho scaricato io l'ho scaricato in un attimo eh che ci vuoi fa? eh stai intrattenendo gatto sta chat c'ho da fare c'ho da fare c'ho da fare c'ho da fare c'è una live c'ho da fare c'ho da fare con la live purtroppo lasciamo perdere cosa succede? c'ho da fare con la live questo nuovo voce è ficcantissimo altro che master è ficcantissima questa voce com'è che si chiamava? perso già il nome Giorgio si chiama Giorgio buonasera Cold buonasera vi è garbata la live di ieri? bene sono contento anche perchè abbiamo è una faticaccia abbiamo fatto 3 ore di overwatch di fila tra io Moro e e Mark e una l'ha fatta a Giezaro una non sono state così pesanti appunto perchè ci alternavamo comunque si si ringraziando il cielo io ho rischiato anche di uccidermi in un momento mi stavo facendo un capitombolo non mi ha visto nessuno però perchè sono tutti ciechi si tratta dalla webcam si vedeva noi il resto era tutto buissimo dietro sembrava il green screen al momento e Giezaro rinviti tu? certo dai valla voce più ficcante non esiste vedi? vedi? non mi sta scaricando l'update non mi sta scaricando l'update ci mette un pochino l'invita non so partire eh no ma proprio non parte ma hai aperto Uplay o Rainbow Six direttamente Rainbow Six direttamente? Q di Rainbow Six apri Uplay è già aperto Uplay deficiente è Q di Rainbow Six ok e quando poi metto play cosa devo fare poi? no non devi fare niente cioè su Uplay c'è una freccina che va verso il basso con un cerchietto intorno allora aspetta lo riapro apro Uplay e basta si stiamo aspettando e vabbè ormai scusatemi ero convinto che avesse aperto Rainbow Six prima invece no alla fine eravamo abbastanza però purtroppo c'era della gente che è venuta ha giocato due secondi ha preso la limite ed è scappata via non è rimasta lì niente quindi insomma non è esattamente una bella cosa da fare guarda eh sì dai sono arrivati a preso over o se sono andati via esatto eh non venite la prossima volta più che altro hanno fatto la figura degli accattoni perché lo sono anche perché i nominativi ci sono noi sappiamo chi sono gli accattoni della situazione quindi si devono vergognare ancora di più perché noi sappiamo erano 160 comunque Gabriel si devono vergognare Gabriel ho visto le foto sei orribile bene allora ma ora ti ho invitato però ma scusami scusami mi è uscita male mi fai schifo volevo dire allora la limite di overwatch limite di overwatch come limite di cosa sono una settimana che lo dico ma lui non ti segue no mica come una limite di cosa non ti segue non ti segui mi siete anche chi che l'ha rubata è la madonna e il madonna ciao gattone era tanto che ti segui che non seguivo una live scuola di merda va bene ho aperto una cosa ficcante le mie ragazze ma è la stessa scuola e tua sorella ok non c'entra niente ma mi andava di dirtelo ok grazie abbiamo le sorelle uguali va bene sono riuscite a entrare tutti perché appunto c'era della gente che è arrivata e poi si è lavata di culo c'è anche gente che è stata tutto il tempo e non ho giocato per nulla e tu non vale ragazzi giocate perché qua ci sta mettendo una vita giocate voi e guarda porca puttana you play adesso almeno ti sta scaricando non sai cosa non sai cosa succederà non lo so c'è scritto discovering files questa è casa mia non sai cosa succederà adesso cosa succederà non finiremo puntuali I mustar canubi grazie mille no magari e si perché stavo perdendo il tempo di una partita si perché non riesco di azzaro vengono la prossima sarebbe un bel titolo per una trasmissione di che? quale? delle varie cose che abbiamo detto il titolo quale titolo? e infatti discovering files ah scopriamo faccende da me posso usare fuzza quindi che prurito you play è bello insomma beh non è tra i peggiori you play no il peggioro però mi sembra me è andato subito è origine da quando già ero una merda da quando l'hanno rinnovato ma you play è abbastanza ma origine è anche confusionario dal punto di vista no no ma da quando l'hanno rifatto è diventato tutto una merda e si blocca poi il problema il problema del coso delle notifiche in basso a destra che non mi fa cliccare le robe che cazzo vuol dire mustak adesso potrei anche vederti i films e le serie se sei contentos? però dovevo rifarlo un filmone adesso quando abbiamo finito Harry Plotter giusto per farti il fastidio io bevo Pepsi a me non cambia niente bevi lo schifo che vuoi dovete recuperare l'ostaggio oh bene allora merda l'ostaggio ma io ho le fiamme dell'inferno da sparargli l'abbiamo detto ah li ho trovati mi sa scusa dove? fai vedere se c'è un buco c'è un buco nocciovato merdoni peggiore è quello di Microsoft si però scarica ad una velocità straordinaria vabbè ma quello di Microsoft in realtà per dire anche Steam di browser va molto più veloce Microsoft di Twitch ma quello di Twitch in realtà è una finestrella del cazzo che ti scarica la roba non è non è un launcher vero e proprio è semplicemente una finestra che ti fa vedere i download questa è casa mia entriera Cirilla grazie mille beh sono distanti andiamo a morire è vero che c'è tala casa andiamogli un twin la madonna ma porca torna non si rompe aspetta un attimo Shilemon salve signor gatto non sono riuscito a seguirla nell'evento le dono qualche soldino per farmi perdonare ma vabbè grazie mille moro ci sei? ma sono da solo qui non c'è nessuno quindi è un buco eh vabbè io sono andato di qua mamma mia come è morto quello lì ma con che mira con che mira io c4 c4 cazzo potevo uccidertelo chiedertelo che figura mi spiace non ti ho vendicato no ma c'è qualcosa che non va perché mi aspetto e io non ero di rimbalzone come non detto qualcosa che non va ah mi sembrava un tipo no era una pianta ultimo nemico rimasto come ultimo nemico rimasto e dov'è l'ultimo nemico? boh e sarà dentro io ho uno ostacio ma non è dentro ah vedi posso dire ah ah vuol sapere se la mamma la mamma di youplay è una peripatetica volevo capire perché non sta andando avanti pensa che a me prima sai cosa diceva? manca poco ci sei quasi mi diceva a me dice discovering files sta andando avanti ma molto piano e ce l'hai in inglese poi? perché sono swag no perché non sai come cambiare la lingua dillo nel talato così cinque anni fa l'ho lasciato così non sempre si hanno messo nuove mappe però ancora non c'è andata di culo quindi e una ce ne sarà di nuovo vengono figurati dovete proteggere l'ostaggio rinforzate la stanza io le granate di rimbalzo sono il maestro le granate di rimbalzo non ho capito io che problemi vi dovete fare e se rikidi ho visto da te infatti che hai detto metto un tuinchiata la casa però ti volevo rubare la battuta perché io sono vips e quindi credono più a me l'inglese è bello perché lui è swag sono swag sono yolo beh ma non è bello che bello ma è bello la mappa nuova lo fa cagare dicono ah sì un altro robottino io la pappa nuova l'altro altro il nemico con l'ottaggio muro fortificato ue robot cani shun e fesu ue 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 ah oggi ho visto ah state giocato qua bene quanto sparano quanto sparano ma è dei nostri però sono stato individuato eccolo qui robottino ma che cazzo è già morto quello lì eeeh l'ho ucciso lo avete sparato ma come è possibile eh il totufe eh quanto mi ha perso la cosa che mi ha forzato dai da fuori da fuori dell'edificio ah no ma è un tizio ma pensavo bravo perché devo fare un muro invece è sempre stato quello lì col cecchino che ha sfondato la parete ma tutte le live vanno sul canale youtube per fortuna ho aggiornato su steam ma io non ce l'ho su steam ma come posso dire lo vedo user ha aggiornato il tuo canale hello hello it's me looking for chi è entrato paura buona l'ultimo nemico rimasto minchia tachanka tachanka però non sta aiutando no vabbè lui che non è a terra e vi manca il cecchino che è di fuori però ah stia lì ah stia lì è da lì l'Elyezer che mi ha ucciso a me è morto non si inclina ecco no eh no va bene la mappa nuova è tutta strana ci sono alcune parti dove fare breccia impossibile e altre stanze scoperte più di un terrazzo e va bene a dubito sia ancora lì a guardare dalle mappe dalle mappe dalle telecamere quindi è qui mi sa che qui l'ho sentito io sento l'elicottero che ti copre tutto che ansia è morto buonasera eccoci sono capitau ma che dispiacere che non mi fa vedere le skin che ho qui nel menu è una roba basta mettere chi prendere non so chi prendere prendere prendo un piccolo bastion si è esattamente quello è è un bastioncino è che prima era inutile completamente perché appunto sei fermo però adesso gli ha messo appunto sto scudo che almeno un po' va dovete individuare l'ostaggio gli schermi curvi sono ficcanti assai eh si sono ben bene e non mi ha sfarfallato una volta che bello giocare a overwatch senza uno sfarfallio io gioco sempre c'è lo schermo c'è la tv da 32 pollici non hai il tiri tu quando giochi assolutamente no eh io non ho il visin cattivo perché altrimenti mi smarmella in realtà comunque io ho lo schermo talmente vicino che anche quando c'è il tiri l'ho noto pochissimo il tiri ce l'hai eh no il tiri ce l'hai quando tutta la televisione e quindi lo noto cioè visivamente quando ce l'ho lontano il tiri lo noto molto di più se sono molto vicino è una linea nello schermo che si perde in mezzo non la vedo però però lo noto insomma no si nota comunque non ce l'ho io su overwatch eh io ce l'ho io ne ho abbastanza che vabbè non mi turba così tanto però c'è anche perché in live non si vede in video non si vede è una roba che ho solo io quindi perché è una cosa proprio dello schermo dai tu di là o di qua a moro sta giocando a rainbow six vedi e non è una bugia bravi scendi lezard voi si si che l'hai rotto lezard no era rossio ma hai fatto rumore lo stesso vai vai scendi che ti sto coprendo era libero davvero è lì l'ho visto ma con quella cosa fai fidati fidati guarda 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 che adesso gli faccio il tricks e lo so gli faccio il tricks guarda questo non se l'aspettava e infatti non c'è cascato perché non è uno sproveduto ma chi sta sparando talahasi non so stava sparando qualcuno che cazzo la merda coglione io che ci sono rimasto lì ma lo stavo coprendo semplicemente ero da un'angolazione che non era abbastanza corretta Luke sei rimasto solo tu e talahasi ma con lui non ci posso parlare bel volo crudo di faccia la madonna dido perché se era forse ho riuscito a vedermi 8 donne è un mistero col vostro commento sopra sto ancora ridendo semplicemente grazie quando il prossimo filmone complimenti Luke bravo un saluto a tutti grazie e ancora non lo sappiamo dobbiamo vedere a sinistra di Luke scusate destra ma come se fa dov'era vabbè ah no aspetta non mi ha fatto vedere la kill count no è talahasi questo va bene vedo e ne saprà lui scusa è l'unico sopravvissuto eh ma dire che allora è l'unico che sa giocare di noi adesso tirano giù come una pera te lo dico io che tattica guardalo guardalo si è caccato ad ossissimo si è caccato questa ah si mi ricordo sei quello biondo che c'è la faccia da pirla joker tre mesi grazie mille vede il laser il cazzo di puntino laser di merda ce la fa ce la fa vince lui vince lui rega destra metti il pompa vabbè da dove non ho visto ah si mi ricordo sei quello biondo che c'è la faccia da pirla alle gare grazie mille anche a lei allora io prendo il castello marcondiro io sono passato ad allocare lo spazio su disco oh dai allora ci sei ci sei un attimo ci sei H1Z1 purtroppo è passato un po' in secondo piano oh fa cagare eh si ma il laser credo credo che ma chi è che entra e esce il laser serve anche a sparare senza mirare penso che sia comodo comunque beh si è comodo se sei quello con lo scudo beh quello è essenziale anche perché se hai lo scudo sei sei stronzomen guardate i giubbotti molto tranquilla questa l'avevi visto siamo persone a modino comodino un nemico un nemico ha trovato prepararsi all'assalto di già rimangono dieci secondi c'è qualcuno che è giubbotti si adesso vengo a pigliarmelo ah volete sapere una cosa hai iniziato adesso a scaricarmi la patch prima stava facendo Roma non so cosa cazzo stesse facendo permesso ora chiedete un po' di robe aspetta aspetta non riesco buonasera buonasera siamo matti hai sentito no ma di là io non ho barricato nessuna parete ma va bene lo stesso ma questo qui è l'ascensore perché ti sei messo qua non si può barricare no mettici una c4 ce l'hai? no non sono non marricarla quella non so dove mettermi sinceramente ma serviva questo scudo elettrico mi ha spaccato le balle è stato ucciso dall'asiatica mi sento camminare sopra di noi ok hai esploso qualcosa? li azzarda a te? no davanti a me ah ok vengo lì? eccolo sapevo che era anche qui è quello con lo scudo da me eh fanculo cazzo ma dai così poco le ho tolto? ma porca miseria mi ha proprio seccato ok non c'è un altro l'ho evitata a quanto pare è corso vediamo se trovo qualcuno ecco lo trovo la gamba scoperta da lì l'ho taggato eh io scudo qua perchè devo te lo sto taggato e niente mi ha rotto vediamo se lì ce n'è una anche se ho avuto tutto il cubo scoperto da lì che sfiga risa tira su non tirare su luco ma c'è lo scudo quello lì ma scusami ma con cosa ti stava sparando? corrimi dietro corrimi dietro e ma sono gli altri fanculo gli altri buono 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 no peccato peccato si mi viene fallita difensori uccisi giocando ho notato che la tattica di tanti indifeso è tenere Caveira in giro ma se ne lo fa caccare e invece guarda che c'ha ragione pure lui ma guarda ne parlano tutti un gran bene della signorina Caveira ma non ho capito perchè è perchè perchè è stelt noi ci basiamo sempre sui rumori i casini i pezzini ma è stelt ma più o meno comunque quando è stelt non fa niente cioè non può far niente è una posizione di svantaggio ragazzi Luke non parla avete avuto i coglioni ma l'ho scoperto adesso ma cosa vuol dire ma l'hanno già chiesto un sacco di volte ma infatti non ho capito vi siete incoglioniti da un attimo all'altro porca miseria ma tu cosa ci fai qui porca troia siamo in live non so su un gioco del genere tra l'altro mica cazzi dove sono gli lizards erano nel garage almeno ho visto uno sboccare oh merda io sono andato di sopra deliberatamente hanno trovato uno qui è scomparso magico 10 secondi è mago? aspetta hai 10 secondi sono qua sono nel cavoso ce l'ho trovato bravo grazie gatto io non so infatti io ho mollato il drone in mezzo ai coglioni il mio compleanno è il 26 di giugno così manca giusto una settimana attenzione sono tutti qui sono trovati come? sono trovati quindi stai attento i talasi risprezzante del prezzemolo e va ostia ha suonato l'allarme ma noi ce ne sbattiamo io vado lo stesso ma ha suonato da una parte che non è la nostra quindi da me non è vero non è vero non ha suonato da te deficiente sono qua sono qui sono qui sono qui oh che paura ma lì così era ma dai veramente eh sì perché era ma no ho capito che ho sparato tra l'altro questo veramente a me lezzer come si va giù di lì dove sei te è bella domanda aspetta perché io mi son perduto ho seguito lui dove sei? è sopra l'obiettivo adesso ho suonato dove sono passato io vai lì a sinistra dritto no a destra sotto là sotto là qui sotto che? spare no no l'ho chiuso ok ah no eh che fu ma dai mi hai mentito eh sì allora entra di qui di qui 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 sinistra sinistra che sbircio sì volevo sbirciare può entrare anche da lì può entrare no robottino può entrare da lì la trappo la gatto l'ho vista l'ho vista come si disini perciò sento correre scusa scusa eh mi sa che l'ho visto non era no era dietro perché mi era sembrato di vedere una sagoma così a caso Celtic così su dei piedi boh non lo so effettivamente non era ancora fuori con la testa per il mio compleanno prima hai finito? eh no come? no sta scaricando un'altra cosa a saperlo lo avevo ieri prima di andare a Firenze veramente lo sta scaricando adesso eh un'altra patch da uno di un gigotattacinque eh comunque non dovrebbe metterci tantissimo allora usciamo dai ti aspettiamo un attimino io che palle però se no ti sto facendo il dito medio che arriva birra in vitto con usciranno Tom Clancy lo comprerebbe intanto fammi no Tom Clancy subito subito fate prest Tom Clancy è perché Tom Clancy è anche questo è tutto Tom Clancy è morto Tom Clancy Tom Clancy Pokemon Go ma guarda che se era leone non era male Celtic eh no come scelta poi dopo si è rivelato essere un tradimento però in realtà le recensioni le recensioni erano tutte buone il video di presentazione era interessante gli screen erano belli cosa ne sapevo io cosa ne sapevo io ne è uscito adesso uno bello con due astronauti è quello lì Planet Ears è una merda si? no non è una merda è zero contenuti perché è un accesso anticipato hanno detto che in un paio d'ore riesci già a vedere tutto quello che si può fare che è molto poco benissimo e quindi anche questo è andato via eh ma gli accessi anticipati quello sono a me è andato bene con Island Simulator che aveva quella campagna è incredibile sì ma è durata quanto? mezz'ora? ma gli piacerebbe 20 minuti 10 minuti e tra l'altro io ne ho fatti 9 e il minuto dopo la live dopo questa è casa mia entriera chi fu? chi fu? Black Barão grazie mille a lei grazie mille a lei non so se avete notato chi è il numero 1 nelle tendenze in Italia ancora? non so se avete notato sono ancora ancora io ancora ancora io quando farò uscire io il mio video di Natale dove sono i video di Euro? dimmi cosa? ho fatto uscire il video di Natale? dov'è il libro di Suka Rimusa? dov'è? Suka Rimusa che ha scritto così però? dov'è? 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 c'è ancora questo? lasciamo giocare questo semplicemente mi ero dimenticato che fosse Tom Clancy anche Ghost perché appunto è morto e quindi ho detto basta non escono più di Tom Clancy è morto e invece è morto tre anni fa quattro anni fa non è che così vecchio tra l'altro vediamo un pochino quanti anni aveva Tom Clancy Trivia Tom Clancy eccolo qui che dà me in giro sempre con questo berrettino militare sugli occhiali Suka Rimusa è un cantante indiano secondo me è un Suka Rimusa aspetta provo a scriverlo guardo Suka Rimusa era nato nel 47 e guarda è uscito la prima la prima cosa che viene fuori su Google scrivendo Suka Rimusa è Katakata Cinta Romanti Rumus Mathematica con la K allora è russo secondo me però trattino pepata ok beh dai cos'è no questo è virus lo apro è un ristorante dai Katakata Romantis Mathematica ah è una frase tipo un detto Katakata Cinta Romantis Rumus Mathematica in quale lingua eh non lo so copia in collo su Google che vedi me la traduci in auto ah traduci questa pagina parole d'amore romance formule matematiche da che lingua aspetta indonesiano vedi che ci ho ci ho azzeccato ci ho azzeccato porca troia bravo indonesiano non è indiano no assolutamente l'indonesiano però è sempre qui posti lì comunque quando mangi qualcosa ti brucia comunque il culo diciamo eh sì sei pronto te assolutamente no va bene Tom Clancy ah sta aggiornando Watch Dogs 2 adesso vabbè ho capito ma scusa ma ha finito l'altro io non vi dico ha finito perché non vi dico cosa ho scaricato beh non avevo dubbi le ha scaricato le patch di tutti i giochi no no avrà scaricato le tecniche dell'altra definizione no no ho scaricato Tom Clancy però dei divisioni ho letto solo Tom Clancy all'inizio pensavo fosse che è che è morto ho scaricato basta fare giochi con il suo nome terzo gioco di questa serata no no aspetta ho scaricato tutto the division no 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 allora è partito a scaricare i 2 giga di Rainbow Six Siege no e io ho aperto era al 10% ho detto vabbè ci mette 3 minuti 3 minuti dopo ho riaperto ed era a metà però era a metà dell'altro era a metà di The Division solo che io ho letto Tom Clancy tu ce l'avevi già da prima ce l'avevi già da prima non è tutto The Division è un aggiornamento dai perché ho letto Tom Clancy alla veloce efficiente Tom Clancy di merda sto entrando amici pace all'anima degli mortacci ma non l'ho fatta apposta tra l'altro in il principe abusivo dice che mai insultare coi morti devi insultare coi vivi non devi dire mortacci o chi te morto ma devi dire chi te vive chi te stra vive non devo insultare con i vivi quindi con i morti e quindi in presenza di un morto non devo insultare invitation 0302 2000 ti sta andando una mossa che ti rompo i piedi io carico non è che posso tirargli i calci che devo fare puoi scaricare i giochi giusti ma Tom Clancy Tom Clancy non è che sto lì è morto fammi scaricare non è che è buono a mettere i giubbotti questo qui no no una ne facciamo almeno otto adesso no una all night long all night ma il film tu devi vedere il film anche tu ma almeno ne frega niente per vedere poi Harry Potter secondo me è morto ma chi è morto tu carino tra l'altro l'hai visto il 6 di Harry Potter c'è una scena doppiata in italiano che fa ah no c'è Hermione Harry in biblioteca che stanno parlando di questa cena e Harry non sa con chi andarci e Hermione gli fa guarda che c'è quella là che ti guarda sempre dicono che vorrebbe usare un filtro dell'amore su di te no dopo fanno di scorsi qui e Harry fa io me ne voglio trovare una carina una fica ahia così lo dice che brutto ma proprio così ci siamo inizi a ridere e come lo diciamo noi e si è un termosifone che ridere sei un termosifone Harry che storie giubbotti gatto li ho messi ma io sto già murando i muri guarda chi te vi aspetta prendiamo questo aspetta bisogna murare le strade ce l'hanno già trovato come? è possibile? non l'hanno trovato e però ci è passato a fianco è l'hanno trovato ho sentito dei giubbotti l'hanno sparato quanti 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 io l'ho preso chi non l'ha preso chiudete il garage attesemente arrivo di più fresca fresca marricata pronta io che ce l'hai uno nel culo anche tu carim ah porca miseria è sotto la barca arcuri in 5 secondi qui c'è da mettere miseriaccia Harry la fica miseriaccia ora rinforzato ma sono stato un po' a dirlo ficardium le viose c'è qualcuno che non si è giubbottato io ve lo dico ah qui c'è una botta la carimocchia te lo metto dove? sopra? oh perca troia oh perx oh patca troia ma anche un giubbotto eh chi non ha preso il giubbotto? carimocchia non l'ha preso no ma certo che l'ho preso io ho già letto in chat ma che mira gatto eh ho già letto eh i robotti non schizzava da tutte le parti è schifo la vacca vado gatto io da qua vedo completamente bianco si vede bianco non si vede niente bravo Luke ma dov'erò allontanissimo tiratelo su no dove mi è morto tra le mani mi è morto tra l'altro oh mio dio Luke 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 ti rimetto a posto cervello Luke che schifo ma non si vede niente non si vede io vedo la macchina della polizia qui di fronte eh si bussano i Ducati ti stanno sparando a me quello lì si ma io non li vedo non muoverti troppo però gatto perché eh no è che la volta che ti vedono è uno sopra si 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 sono morto non ho visto te l'ho detto non muoverti troppo ero fermo non ho fatto niente dopo che te l'ho detto però non ti muovere è appunto è per quello non devi muoverti mai no come ah vabbè porca troia che non troppo ovviamente sono tutti dietro la macchina della polizia non crederai vino da lì eh uuuh uuuh sventate ulteriori spara di qualcuno è entrato ma ragazzi hanno messo in sicurezza il coso e c'è da sinistra che rinforza è ho visto qualcuno passare guarda porca a sinistra merda eh cos'è capodanno che rinforza porca troia ma dai mi è arrivato in faccia proprio ma poi sono dei dischi di ok perché ah merda è un anno che promettono di fissare l'illuminazione ma è perfetta non vedi no ma l'illuminazione in teoria è giusta devono solo limarla un pochino perché vedere così bianco hai problemi agli occhi eh però che figura stasera che figura cioè quando registro con i termos faccio le kill vinco i culi quando sono in lab da carino faccio le kill e vinco i culi sempre più o meno perché sono sempre il primo io ma comunque non è vero che cazzo dici quando avrei gioco con loro no non è vero carim 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 carim l'ultima volta che abbiamo giocato assieme ero primo sempre da te guarda che dopo la riguardiamo tutta va bene tutta la riguardiamo hai detto sempre ho sbagliato ah ecco è già diversissimo è già diversissimo però però è vero sì è vero il contenitore di biorista eh ma non ti emozionare in live tua anche perché da me tu sei primo ma nessuno ti vede giocare però può essere una botta di culo incredibile addirittura c'è uno di quei pro player che non ha parlato in quelli spazi di sopra ma io ho visto una finestra ma sotto sotto al piano terra ho provato a saltarlo li ho visti bastardo laser occhio ce n'è uno ma dove cazzo è prima è sopra ti salvo quanti sono? 4 3 2 contenitore del biorischio porca tornano tutti libero è sopra 1v1 e gli sparo lo so gli sparo mi faccio a Karim dai c'è qualcuno che sfonda i muretti per me? che paura bravo Moro bella idea eh ma non ved- eh sono tutti qui sono stato individuato lì dentro Moro eh sì adesso non vedo finiti vai tranquillo neanche loro titolo qui da me ma mi han visto granate non ci sono uno continuano a lanciare la merda questo qui lasciami fare non ho capito contenitore di biorischio trovato è qui la vacca che fumo perché di meno 10 scusa ma che palle ho avuto un gadget ma vabbè difendete la tante e proteggete il contenitore ah l'ho colpito mentre passava dove cazzo è? dimenticatevi del contenitore io l'ho preso sono sicuro ho visto il sangue c'è una telecamera non è morto però non mi ha dato un accurate marker che cavera nella stanza sotto di te eh lo so lo so eh no è passata di corsa c'è un buco là moro a sinistra a sinistra non hai visto? oh merda mi tira su guarda Moro moro uccidilo ma non lo vedevo io e quanto hai esitato porca trovi eh non lo vedo non lo vedevo cioè io li vedevo nero porca madre oddio no eh ma porca puttana ah sono solo? guarda in che posizione di merda ero io guarda guarda l'ho ucciso uno v uno uno è ferito è ferito uno eh ma io c'hai le granate tiragli le granate non mi va più ah non ce l'hai niente va bene no ma se è ferito mi ha ucciso qua vincevo eh sono stato individinato mi sa che ti conviene la pistol forse è sopra si è lì occhio che guarda dalla finestra sono stato individinato lo disattiva attiva che cazzo è la telecamera ah eccola lì è colpita? è colpita? mi sa che non l'hai colpita quella l'ho colpita cazzo ma merda eh perché t'hanno identificato eh lo so è da tre ore che ci identifica eh ma è per forza l'ha beccato per quello vabbè vabbè madonna di striscio con un pompone da molto distante eh non so dove l'altra telecamera perché ok provo a riusare il medico ma pochissime volte riusciamo a stare per terra senza no l'itmarker non lo vedete voi perché appunto mi stavano aspettando no l'itmarker non lo vediamo mai noi esatto però lo vedo no ma stanno che tu non vedessi quel tipo che ho detto cazzo perché non lo sto sparando no no vedevo nero dopo mi è comparso cioè ho sparato e mi è comparso il nome eh io invece avevo visto proprio la sagoma mi si è impallata la chat ecco perché non stavo leggendo più niente è rimasta mezz'ora fa ma basta prova caveira datemi un motivo per provare caveira prima è stent ma ancora qui che palle botti nessuno non ce l'hai te Luke no Luke è la Luke questo è un posto di verno è un po' sì è già trovato no non l'hanno trovato eh però sanno dov'è perché siamo tutti qui è bloccata lì l'ingresso eh non c'abbiamo io vado sopra a bloccare il buco sopra se riesco l'ho trovato va bene non importa vado su no no non devi chiudere io sto fuori tanto non serve stare qui dentro lì allora il buco è cinque secondi dove cazzo chiudo dove cazzo è il buco qua che tanto arriveranno sicuramente dall'fuori ho fatto un errore non c'è il buco qui è qui dovrebbe essere qui giubbotti e non c'è lì a zero no 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 dove sei tu qua dove sono io no adesso non posso più muovermi aspetta che è successo? l'ho sfondato eh sono qui fuori o c'era bisogno? cos'è i petardi? ho ucciso uno no che brutto posto vedo niente fumogeno di merda la vacca puttana cosa è successo? G granata aiuto aiuto eh vabbè li scendiamo li scendiamo corro perché mi sa che stanno tirando la roba no merda mi hanno ucciso da dietro dice Luke puttana eh vabbè c'ho troppo in culo niente ero troppo distante io l'esaline no vabbè ma vaffanculo va che palle che muoio con un colpo solo che bene che mi vedeva sì ma loro vedono perfettamente da fuori io lo vedevo poco poco la testolina dietro la macchina lui mi vedeva tranquillo no ma quello è normale il problema è che loro non vedevano nero dentro è quello il problema loro vedevano perfettamente ma cari ti è andata bene anche se hai rovinato tutti i piani non lo so comunque le 10 praticamente hai visto ora vedi piano incredibile è magico sto gioco secondo me lo spot in cui ti hai rimesso era ti sei mosso gatto ti sei mosso? no no ero fermo ero anche ben nascosto semplicemente dal mio punto di vista io vedevo una roba lui vedeva tutto cosa? evitavo sempre di stare disteso comunque eh perché se poi devi scappare non fa uscire dal gioco no ma a parte che appena ti vedono ti appunto ti fanno headshot è una cosa che vedono è la testa eh buone signori buone è stato bello spero vi siate divertiti noi ci vediamo naturalmente domenica sera quindi un buon proseguimento di serata a tutti buon weekend magari domani mattina facciamo Skyrim magari no magari lo scopriremo solo vivendo e buono comunque adesso ho un po' paura va bene grazie a Termosifoni grazie a Karim ciao ciao prego eh vabbè puttana e grazie anche per tutte le donazioni di Sub e Resub e viva la patata